lunedì 7 novembre san ernesto abate è il 311 giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 54 al termine il sole sorge alle 6 e 58 e tramonta le 16 e 50 la luna si leva le 16 e 27 e tramonta le 5 e 35 giornata tristissima per venezia viene festeggiato l'arrivo del tristo figuro vittorio emanuele di savoia artefice con l'inganno e con la forza della perdita della libertà e dell'indipendenza della serenissima le previsioni per domani cielo sereno poco nuvoloso con probabili maggiori annuvolamenti in pianura nelle ore pomeridiane temperature pressoché stazionarie o in locale variazione